Manca poco meno di un mese ad un attesissimo evento che dal 1996 ogni anno anima una serata milanese all'insegna di spettacolo, gol ed ospiti davvero illustri. Si tratta del premio gentleman, giunto alla ventesima edizione e pronto a festeggiare in grande stile l'edizione 2015. L'appuntamento di quest'anno è fissato per giovedì 21 maggio e godrà di un'ambientazione speciale, quella della Scuola Militare Teulie di Milano. Come sempre un ricco menù, culinario e calcistico, ma soprattutto di premiazioni. Dalle storiche categorie riservate al fair play e dai migliori gol nerazzurri e rossoneri della stagione in corso, passando attraverso i premi speciali nati negli ultimi anni. E una novità assoluta come il premio per il gol più bello degli ultimi vent'anni di Inter, che, come il miglior gol stagionale, a partire da oggi, giovedì 23 aprile, sarete voi abbonati di Inter Channel a votare, via mail, sms e twitter. Un premio che raddoppia l'insegna della costante crescita iniziata nel 1996 ad opera di Gianfranco Fasan e Federico Aloisi e che anche quest'anno si lega alla beneficenza, con parte del ricavato che sarà destinato al finanziamento di progetti per l'infanzia e per lo sport. Un evento che nel corso degli anni ha visto illustri nerazzurri tra i premiati, dal fenomeno Ronaldo a Diego Milito, passando per Mancini, Moratti, Murigno e colui che dallo scorso anno è presidente onorario del premio. A via Sanetti. Tu, per questa sera sei diventato presidente onorario del premio 100. Quindi il prossimo anno concorrà a via Sanetti, ve lo dico, va bene, non mancherà sicuramente. Non mancherà all'appuntamento dunque a via Sanetti, così come i vincitori dei premi, che, come detto, saranno decretati grazie ai vostri voti, inviati a Inter Channel per quanto riguarda le categorie nerazzurre, ma anche espressi sul sito del premio, www.premiogentlemen.it, per questo per quanto riguarda tutte le altre categorie. Ma non è tutto, Inter Channel vuole aiutarvi, come sempre facendovi rivivere emozioni uniche. Ecco perché ogni giorno, fatta eccezione per le giornate di gara, vi faremo rivedere uno dei migliori gol di questa stagione, ed uno dei migliori gol degli ultimi vent'anni. Lo faremo all'interno degli appuntamenti con Radio Inter e Cundown, ma non solo. Sempre a tema, sempre con uno spunto differente. E da allora non resta che restare con Inter Channel e godersi i migliori momenti della storia interista e votare per un nuovo appuntamento da veri gentleman.